salve amici di youtube benvenuti in questa nuova puntata di c'è la terza puntata di dns tech pack giusto e qui come ci sono gabriele prg che è quello che non sta saltando però che non è quello che sta saltando in questo momento gabriele è quello che sta saltando e poi lo metto che salta esatto ok ragazzi cosa vogliamo dire ai nostri nostri iscritti che hanno visto il secondo episodio il commentare mentre mi piace esatto e poi soprattutto che abbiamo messo il visto che sono andato in giro trasformato da pipistrello preso le galline visto che c'ero si poi abbiamo espanso l'affare delle galline esatto fatto la scatola di cani a casa non la scatola esatto perché in pratica mi sono trasformato in pipistrello sono andato a cercare i lupi visto che a me piacciono i lupetti li ho messi tutti qua li ho accoppiati uno con l'altro e alla fine cioè magari anche la madre si è trombata il figlio non so è un caso potrebbe anche essere esatto e poi sono andato a prendere quest'acqua un po particolare che slomito ci spiegherà che cos'è è esattamente so che è dell'arte magica ma non so cosa cosa serve esatto lo scopriamo perfetta no vabbè lo scopriremo più avanti no come si dice lo scopriremo solo vivendo esatto poi abbiamo trovato questi materiali c'è che i materiali diciamo li ha fatti la la tartal che l'ha costruita gabriele infatti vi faremo vedere qua in pratica abbiamo fatto un buco enorme aspetta che sto laggando a bestia riesco uscire di casa aiuto vabbè ok ce l'ho fatta la farò vedere io in pratica qua dentro ho spaccato qua e la tartal a momenti casco dentro ha scavato ha scavato tutto quanto fino alla bedrock e abbiamo trovato tutti questi materiali che abbiamo trovato adesso poi qua abbiamo tappato per non finire giù e ammazzarci esatto e voi digli questo tubo nero doveva finire questo tubo nero non è un penne gigante esatto ma e bensì perché c'è un certo slumito che gli dà fastidio che faccio i bug attorno casa quindi mi sono allontanato di uno stack di tubi che si fanno semplicemente con due stone cobblestone in base a quale volete fare e gna però questo è cobblestone e un vetro al centro quindi cobblestone vetro cobblestone ok cosa sta facendo il macchinario la tartal che è un computer col piccone sta diggando sta facendo un altro buco un pochino più grosso ma io non ti avevo detto che dovevamo togliere l'acqua adesso non la sta togliendo l'acqua sbaglio no no non la sta togliendo perché non l'abbiamo più tolta quindi non si è tolta quindi non l'abbiamo tolta non la toglie neanche la tolta esatto non abbiamo capito un cazzo ma va bene comunque va bene così abbiamo un quadrato di acqua ma non ce ne facciamo nulla voglio dire c'è chi pagherebbe milioni per averlo in casa minchia una piscina ma è una bella piscina olimpionicas dai un tuffo vai adesso come sali voglio spievo salverci ma hai anche hai anche i pesci in piscina dovresti lavarlo un pochettino allora gabriere che cosa dobbiamo fare oggi come puntata nuova al terzo episodio perché tutti stavano dicendo che le puntate sono troppo le sono troppo diciamo lunghe e quindi dovremmo accorciare i tempi ma devono capire in questa puntata salveremo tante volte zlomito allora in questa puntata faremo un'altra stanza per la casa che se ne occuperà magari zlomito che è un bravo costruttore ma se faccio un'altra casa proprio vai un'altra casa proprio dai vai che non sia nel deserto che dite ok vai a cercare l'iniziativa vai in giro vai a cercati una casa e non lo pensiamo addio esatto mentre io e gabriele magari vogliamo costruire un altro manch'ingegno perché vogliamo che la terza puntata sia già che costruiamo qualcosa visto che vi siete lamentati che durano 35 minuti non abbiamo fatto nulla abbiamo fatto una tartola esatto cioè dovete capire ragazzi che questo tipo di server diciamo questo tipo di patch le cose si fanno con calma perché devi avere anche i materiali giusti se no non fai un cazzo ovvio uno si lagga da fare schifo per adesso si lagherà per adesso poi si sistema e due ci vogliono tanti 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 materiali quindi stiamo aspettando che la tartola ci ritiri su nel frattempo potremo andare in miniera perché ho anche fatto un'altra tartola e vi faccio vedere alcuni programmi allora ti dico già che quella bara che c'è sotto non è mia perché non riesco a spaccarla quindi credo che sia di slo mito io prendo la tartola e la tiro giù di chiunque esso sia comunque questa bara è di diamo un po' a a a a a è slo mito è morto qui l'ho detto lo so l'ho detto noi scendiamo di qua ok allora ragazzi mettiamo la tartola per terra qua siamo a livello 46 di altezza quindi non serve io vi faccio vedere cosa sta scrivendo quando lui metterà la tartola così almeno capirete comunque che cosa stiamo facendo vorrei andare più giù dobbiamo scavare per forza ma c'è anche un altro passaggio acqua ok aspetta tu dico io allora devi andare qua puoi andare qui devono togliere questa bara del cavolo dava torno facciamo prima un bel casino ragazzi già siamo ok e bisogna andare qua qua sotto qua sotto eccolo qua perfetto abbiamo scavato anche noi non ci siamo grattati i coglioni abbiamo fatto le scale perché io sono sono fissato del delle scale perché se no ecco vedete io prendo questo materiale perché francamente non so che cosa è e io sento un enderman io no comunque se andiamo avanti siamo ho trovato ai ho trovato trovato tanto lag comunque se vieni giù ti te lo faccio vedere ok aspetta che ho trovato credo non è diamante questo però è azzurro perché non so il materiale è silver hole perfetto quindi meglio prenderlo cioè non lasciarlo lì ok ma perché io sento un cazzo di enderman allora all'interno scriviamo t u n n n e tunnel quindi spazio e la lunghezza che vogliamo che ci faccia quindi per adesso visto che la rincorreremo 50 quindi adesso lei scava per 50 blocchi e lapis lazuli che culo quindi adesso scaverà 50 blocchi in avanti se sotto di lei troverà dei buchi per non farci cascare ci fa la strada quindi come vedete qua ha messo due cobblestone e adesso scaverà quindi così noi cerchiamo materiali senza sprecare picconi e risorse esatto smercheremo solo un po di carbone legna e tutto quello che gli volete mettere dentro tipo anche secchi di lava le cose molti ti diranno invece ma scusa il piccone hai usato un piccone di diamante prima o poi il piccone in diamante si sprecherà no perché la tartola è infinito esatto e quindi anche il piccone in diamante è infinito questo però lo voglio prendere con l'ossidiana la tartola è molto un colpo solo l'ossidiana con un colpo toglie anche l'ossidiana esatto avete visto che vantaggio che abbiamo ok lui in pratica cosa scava 3x3 cioè lui fa 3x5 3x2 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 alto 2 e largo 3 se vai al volo a prendere delle torce ti faccio vedere la seguiamo e vediamo cosa combina quindi ragazzi questa puntata si chiamerà seguire la tartola evitare che si schianti da qualche parte giusto? no poi vi faremo vedere anche altri programmi che ha programmato sia Slomito che io e quelli proprio li faremo vedere più avanti tipo per fare magari le stanze per fare i tunnel in modo diverso per fare diverse cose quindi qua c'è oro io siccome abbiamo trovato un sacco di ferro mi sono fatto la tressatura perchè francamente morire ogni 5 secondi per colpa di mob francamente mi fa girare le balle e c'è qualcuno qua dentro che ha fatto un casino con le chest e non voglio sapere chi è perchè se lo scopro lo stupro detto che ero il tonno sono stato io ah ecco adesso verrai stuprato vieni vieni come ok adesso voglio vedere come fai tanto l'indirizzo l'indirizzo ce l'ho me l'avevi già dettato un cavallo un cavallo io voglio il cavallo eh qua parliamo di ingruppare di cavalli eh oggi è puntata così eh non è che ma anche la carbonella funziona anche la carbonella ok perchè porto la table e la legna ma che faccio prima posso trasformarmi in pipistrello perchè sto qua a combattere gli zombie i creeper è l'uomo pipistrello ma quanti mob aiuto 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 e batuman eh io batman tu batti piede eh vabbè ah dove cazzo sei che mi ti ho perso ha fatto un buco e non mi ricordo più dove ti sei adatto a incarbugliare segui la turtle eh è quello il punto dove è la turtle è tartata ormai ok ho fatto un bel po' di torce vieni un attimo dove sei eh vieni un attimo sono qua nel buco aspetta ecco non vedo una mazza eh si pure da mangiare perfetto bravissimo mi serviva oh allora prendiamo i materiali quelli che tu dici di prendere tutti tutti anche quelli bianchi certo oh io trovo sempre io trovo sempre quelli luminosi non so perché eh che te ne frega no io ho preso questi qua i blu topaz che sembrano delle cose per le donne il topaz quello per le donne in poche parole no quella è la topa è diverso no quelli che i tampaz voglio dire i tampaz ah io stavo pensando in bluetooth cosa c'entra scopi wireless scopi veloce con la scopa wireless scopi a 2,4 gigahertz cioè qua abbiamo trovato ferro occhio mo c'è lava sopra di noi siamo fottuti ma no in questa altezza no si adesso no è vero che si trova anche a livello 12 la lava si cavolo non portare sfiga no no luce prego eh io non prego è luce almeno pure ma perchè poi tu sei sempre hai la skin da donna solamente non puoi metterti qualcos'altro di pochettino più da cambiare dico che due cogliomberi non è una skin sono trasformato in mob donna eh ho capito ma non sei una donna quindi mi cambia skin ma scusate top poi sto mob donna a che serve non ho capito ad accoppiarsi ma è inutile esatto magari puoi scambiare come i villageri no ti è presente che gli dai roba e loro no 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 non puoi no cioè almeno io non ho visto non sa da niente magari su google ti dicono qualcosa cosa fa bombimi se volete provo a cercare ma io ragazzi mi trasformo in in enderman che devo cercare? cosa fa una donna verde in minecraft? no no ritrasformati pirla no sta morendo guarda che pirla ok l'enderman è alto 3 lo sai? qua siamo alti 2 e fammi un buco di 3 allora e la tarta lo fa di 2 guardate qui si è fermata perché secondo voi? perché ha fatto già 50 blocchi eccomi vedete sono l'enderman vedete? wow mi sto masturbando con la tappa guarda però è un enderman intellettuale cioè gli occhiali e la barba ma non è vero e non è vero guardati il video vabbè tu gna gna tatata allora tunnel lo facciamo di 3 150 parlo anche di 3 però di altezza non posso stare non puoi ma lui non può scavare di 3 no perché questo programma non lo permette ah e vabbè ragazzi mi devo scavare la testa ogni volta che vado in avanti ma scusa ma trasformati in qualcos'altro no voglio stare voglio stare l'enderman spiderman tu sei l'uomo ragno spiderman no che poi salgo sui muri e non mi piace no che poi salgo sui muri non mi piace non mi piace tu sei l'uomo ragno che senti che senti te senti che senti Grazie a tutti. 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 So che è ancora da finire. Grazie a tutti. Ma... Grazie a tutti. 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 Excuse me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No... Grazie a tutti.